bene tavola 43 questa tavola è la spiegazione sarà molto breve perché è praticamente analoga la tavola 42 nel senso che rappresenteremo in assonometria isometrica il solito rappresentato già nella tavola 42 in assonometria cavaliera per cui diciamo che il procedimento sarà simile l'unica cosa che cambierà è l'inclinazione degli assi che nella sonometria isometrica sono inclinati di 30 e 30 gradi quindi l'oggetto rappresenteremo nel foglio come abbiamo già fatto precedentemente foglio messo in verticale nella parte sopra la proiezione ortogonale che è identica a quella già realizzata per la tavola 42 e sotto predisporremo per fare la sonometria isometrica allora il solito lo rivediamo rapidamente eccolo qui è praticamente un'intersezione di due solidi un parallelo epipedo semplice alto 6 centimetri e un parallelo e un solito più basso diciamo a forma di L che interseca in parte il solito più alto alto 3 e bene allora la prima cosa che faremo ovviamente è riportare con le stesse esatte misure la vista del PO sul piano di terra diciamo così quindi esattamente con le stesse misure riportiamo la vista l'unica cosa appunto come dicevo prima che dobbiamo fare è portare i lati paralleli all'asse X e all'asse Y quindi in questo caso gli angoli interni della nostra figura non saranno più di 90 gradi ma saranno angoli scorciati quindi un maggiore o un minore di 90 gradi secondo dell'orientamento questa di fatto è l'unica difficoltà perché poi dopo inizieremo e del solito più alto porteremo le altezze pari a 6 centimetri porteremo poi le altezze dei soliti più bassi del solito più basso pari a 3 centimetri il solito più alto l'ho disegnato in magenta in modo da poter distinguere bene le due linee chiuderemo le linee del solito alto sempre in color magenta e chiuderemo le linee del solito basso e in questo caso sono rimaste in nero di fatto l'intersezione dei due solidi è già rappresentata quindi dobbiamo esclusivamente ragionare sugli spicoli come abbiamo già fatto allora ripassiamo prima gli spicoli visibili del solito più alto ripassiamo poi la copertura diciamo così del solito più basso occhio che ci sarà quindi una parte che verrà tratteggiata perché sono spicoli nascosti dalla faccia dopodiché finiamo di rappresentare tutti quanti gli spicoli chiaramente con la F continua gli spicoli in vista e con la F tratteggiata gli spicoli nascosti gli spicoli nascosti occhio come sempre che questo che sto facendo vedere questi spicoli qui in realtà non sono spicoli perché sono all'interno dell'altro solito quindi in questo modo ecco questa sarà la rappresentazione completa la tavola finale quindi sarà ecco in questo modo tavola 43 con la proiezione ortogonale sopra la sonometria isometrica sotto grazie a tutti